Chiusura in forte calo oggi per la borsa di Milano, che lascia su parterre circa due punti percentuali, in linea con le altre piazze europee e sulla scia di Wall Street. I principali listini mondiali continuano a temere un atterraggio tutt'altro che morbido per l'economia della Cina, che sta rallentando, come confermato oggi, da dati ufficiali sul settore manifatturiero e su quello dei servizi in agosto, il primo in contrazione e il secondo in rallentamento. La paura fosse anche a Wall Street, dove gli indici principali perdono quasi il 2% alla chiusura dei mercati in Italia. A Milano l'indice guida Futsimib perde il 2,2%, trascinata da ribasso soprattutto da bancari e finanziari. Sul paniere principale venduti i bancari, specialmente MPS che perde più del 4%, ma fa eccezione Biper in rialzo frazionale. Lettera anche sul lusso, in particolare Yux che cede il 4,4% e Moncler in rosso del 3,5%.